benvenuti a cani gatti ci troviamo qui sul set di inception e vediamo una chiesa come potete vedere è di fatturazione bizantina costruita nel 1647,2 entrando notiamo che attrenavate una serie di capitelli friggi e un veambulatorio rulante non ti dimenticare il presbiterio lì all'angolino presbiterio molto bello pieno di rosso perché il rosso è il colore del rosso e l'abside è appena passato via e non riusciamo più a prenderlo e 50 secondi sono una buona durata comunque la navata centrale mi sembra molto troncosa è vero da qui si diramano una miriade di navitelle altre navitelle è evidente che sono stati usati i materiali dell'uovo come mattoni per fare quest'albero non era una chiesa sono sinonimi buonanotte a tutti friggi fraghi friggi show